Buongiorno, oggi è venerdì 26 aprile, presentata dal gruppo del Partito Democratico all'Ars su sollecitazione del circolo di Agrigento, una richiesta di ispezione amministrativa al comune di Agrigento in merito ai gravi fatti emersi nell'inchiesta in corso che coinvolgono dirigenti e consulenti dell'amministrazione comunale. Si tratta dell'inchiesta della procura di Palermo che coinvolge Gaetano Di Giovanni, capo di gabinetto del sindaco Miciche, nonché comandante della polizia locale, ed è l'inchiesta della procura di Catania che non tocca direttamente atti del comune di Agrigento ma riguarda dirigenti legati da un rapporto di consulenza con lo stesso Ente. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore di Alcas e Timio Cantone Claudio Guarneri hanno denunciato un grave episodio intimidatorio avvenuto nell'ufficio di Licata della società gestore dei servizi idrici. Lo scrive oggi Agrigento Notizie. Due lavoratori sarebbero stati minacciati di morte. I due dirigenti evidenziano che l'episodio non rappresenta un caso isolato e che la società è pronta a sospendere il servizio per l'utenza. Siamo tutte antifasciste. Questo è il messaggio comparso ieri in concomitanza del 25 aprile su un monumento della villa comunale Regina Elena di Licata. Gli autori del danneggiamento potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza attivate qualche tempo fa all'interno del parco cittadino. Alvia le indagini. Il gruppo consigliare di Sciacca di Forza Italia in un'interrogazione non condivide la scelta di fare pagare anche nelle ore serali e la domenica il parcheggio di Piazza Rossi, seppure soltanto nel periodo estivo. I consiglieri Clelia Catanzaro, Alessandro Grassadori e Isidoro Maniscalco sottolineano poi il mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale e nel chiedere all'amministrazione le motivazioni di questa scelta, propongono di sospenderla. Convocata per sette volte in tribunale per testimoniare, non si è mai presentata e i giudici hanno assolto la persona accusata. I fatti si riferiscono ad un tentativo di stupro denunciato nel 2019 alla scala dei turchi da una turista tedesca. La sua assenza non ha permesso di attivare gli strumenti coattivi all'estero. Le altre deposizioni, tra cui quella della madre di un'amica alla quale raccontò l'episodio con un messaggio vocale e quella dei carabinieri che raccolsero la denuncia in inglese, sono troppo poco significative. L'agrigentino Giuseppe Felice Peritore è il nuovo questore di Trapani, torna in Sicilia dove in passato ha ricoperto numerosi incarichi. Succede a La Rosa, promosso e trasferito al Ministero dell'Interno. In polizia dall'88, Felice Peritore è stato assegnato alla questura di Bergamo, poi è stato a Palermo e Vicario Questore da Grigento. Si insiederà a Trapani il 6 maggio. Nella collana di libri Grandi Segreti d'Italia, in uscita e in abbinamento con il quotidiano Gazzetta dello Sport, ci sono anche le storie di Accursio Miraglia e della nave Edia. Il primo volume, quello su Miraglia, già uscito, è scritto da Silvia Pazzirani e racconta la storia dell'assassinio del 1947 del sindacalista Saccense. Il secondo, scritto dal giornalista e saggista Giovanni Giovannetti, uscirà il 22 maggio e racconta la storia della nave mercantile Edia su cui viaggiava come marinaio il Saccense Filippo Graffeo, scomparsa misteriosamente nel Mediterraneo nel 1962. È tutto per questa mattina, più tardi restate con noi, buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.